Agenzia Matrimoniale Venere, l'unica agenzia specializzata nei rapporti umani che insegna a conoscere se stessi e poi a trovare il partner ideale. Professionalità e riservatezza in un ambiente confortevole e rilassante. Con solo 1,68€ al giorno vi offriamo l'opportunità di conoscere l'anima gemella, la persona giusta con la quale condividere i vostri sogni, progetti, la vostra vita assieme. 800-98-4771 www.feyyaz.tv